Ah, ne ho per tutti, eh? No, 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 guarda, ora basta. Gravina, Gravina, l'amico dei gobbi, l'amico del brand. Gravina, hai rotto il ca. Gravina, ti devi dimettere, Gravina. Non è possibile che una federazione calcio pensa solo a incassare i soldi dai club e se ne sbatte i maroni per una nazionale. Federazione calcio nuova e ci devono essere scout che trovano ragazzini anche dalla serie B per inserirli in un progetto di nazionale seria. Ci sono calciatorini bravi, italiani, anche in serie B. Quindi, ma deve essere la federazione calcio, non puoi tu stare lì, incassare e difendere il brand dei gobbi. Hai capito, Stella? Me ne frega un ca, fuori dai maroni. Ah, anche tu, Gravina, fuori, fuori. Cioè, la federazione calcio deve istituire un comitato di scout per trovare questi benedetti ragazzi italiani. Perché in serie B è pieno di super ragazzini italiani. Inserirli in un progetto, in serie A, in serie B, inserirli in un progetto futuro per la nazionale. Perché se no, in questo modo non si va avanti. I club non gliene frega niente perché l'Inter è americana, il Milan è americano. Non gliene frega un ca, hai capito? Ai club non gli interessano dei giocatorini italiani. Il club vuole incassare soldi e vincere trofei. Lo capisci che deve essere la federazione calcio ad assumersi la responsabilità della nazionale o no? Trovare scout, andare in serie B, guardare tutte le cazzo di partite in serie A e trovare ragazzi perché ci sono. Ci sono. Anche quelli naturalizzati in Italia. La Francia come cazzo fa la Francia, Stere? Sono tutti stranieri. Invece di pensare al brand dei Gobbi, devi fare questo.